Problemi di tossicodipendenza. Shock al grande fratello VIP 7, Charlie Gnocchi svela su Luca Salatino Charlie Gnocchi e i segreti di Luca Salatino al grande fratello VIP. Ne abbiamo già parlato in più di qualche occasione, Luca non sta bene e soffre molto la mancanza della sua soraia fuori dalla casa. È per questo che più di qualche volta, soprattutto di mattina, il giovane si ritrova a piangere da solo, sconfortato dalla distanza. Durante la sedicesima puntata poi, la ragazza si è presentata nella casa e ha dato voglia di rimanere al compagno. Ma è dopo la diretta che Charlie Gnocchi ha detto delle cose molto importanti proprio su Luca Salatino. Parlando con Nikita, il fratello di Gene ha rivelato di sapere cose che nessuno conosce su Luca e che queste sarebbero le reali cause dei pianti dell'ex tronista. Senza parole la Pelison, soprattutto per i toni del coinquilino che ha parlato di